da sei e settantatré in acqua alla terza presentiamo la seconda serie Federica avanzano uno Maddalena colla due Irene Cerchiaro alla tre Sofia Toffani in quattro Anita Bottazzo alla cinque Francesca Finotto alla sei Lucia Menegaldo alla sette Maurian otto e siamo al completamento anche della terza serie Sofia Gugiaro se la giudica trentacinque e quindici va al comando